Due depositi incontrollati di rifiuti speciali sequestrati e due imprenditori denunciati e questo il risultato del blitz della Guardia di Finanza avvenuto nei giorni scorsi a Poggio Imperiale nel Foggiano. I militari della tenenza di Torre Fantine hanno individuato e posto sotto sequestro due distinte aree per complessivi 910 metri cubi, adibite a deposito incontrollato di rifiuti costituiti prevalentemente dagli scarti della segagione del marmo e di lavorazioni edili. Subito dopo, la scoperta ai militari per impedire altri sversamenti illeciti nelle stesse aree e scongiurare l'ulteriore degrado del territorio, dopo aver accertato l'assenza di autorizzazioni amministrative, hanno proceduto al sequestro delle stesse e dei rifiuti sversati. Denunciati a piede libero per il reato di deposito incontrollato di rifiuti rappresentanti di due imprese locali, una del settore edile e l'altra del settore del marmo, colpevoli di aver abbandonato il materiale di scarto delle proprie attività produttive in aree non destinate a discarica. Verranno avviate inoltre le procedure necessarie per la rimozione e lo sbaltimento dei rifiuti dai due siti inquinati.